ciao a tutti ragazzi questa è la mia monia ivy ciao secondo quindi questo è un video che parlo sulle cose sono sulle cose che stanno succedendo con il canale scusate per tutti i santi problemi che non sto mettendo niente sul canale scusate però hai già quindi scusate per le lunghe 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 cose però devo respirare se no che devo fare allora quindi ogni voi non state rispondendo a questa domanda così tanto e io mi sto incavolando vi faccio questa domanda ogni santo video e voi non rispondete ok quindi rispondete qual è il mio dinosauro preferito un secondo mio pokemon preferito è flerion però 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 volevo fare sta cosa da qualche giorno volevo fare tu tu c'hai ma tu c'hai tu c'hai la challenge capitan dino junior praticamente questo è praticamente una cosa che dopo ti ti faccio delle domande e faccio tre canali che devono rispondere a queste domande le domande sono qual è il tuo preferito dinosauro cosa ti ha espresso ad amai dinosauri cosa 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 ti fa schifo della paleontologia cosa pensi della pop culture nei dinosauri i film i giochi quelle cose quinta domanda che cavolo sta facendo con i i tuoi giocatori di dinosauro quindi queste domande saranno fatte a i tuoi giocatori di dinosauro allora è giurassic world no 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 non dovete a proposito questo messaggio per tutti i miei compagni visto che non state facendo un cavolo allora io c'ho un discord quindi dovete soltanto prendere il mio nome che secondo vado a guardare il nome sul disco è capitandino senza la maiuscola attacca tutto attaccato attaccato con numero non il numero di telefono ok è 1665 tutto attaccato è e mi dovete dare l'amicizia sul disco vi registrate dopo unirà nell'amicizia io accetto vi faccio l'invito nel server e e voi dovete accettare dove c'è scritta una cosa lo so che è tutto inglese nel corso nell'app però ciao